Una buona giornata e un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sulla Fipili per lavori due chilometri di coda tra Ginestra, Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze. Rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 2 Cassia è chiuso per lavori lo svincolo di Montalcino in entrata e uscita in direzione Siena. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!